Allora, oggi video che parliamo un po' di tutto, dall'A alla F. Vabbè dai, andiamo a vedere. Sigla! Allora, un po' di cosine da dire. Allora, prima di tutto ringrazio Marco, che ha visto che per qualche giorno non ho fatto video e su Messenger mi ha scritto, ma come mai? Tutto a posto? Stai bene? Tutto ok? Lo ringrazio perché comunque fa piacere sapere che se quando un follower non ti vede si preoccupa un minimo, anche se devo dire di contro che quelli sono canali Messenger e Whatsapp apposita... 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 ma oh non mi viene... apposita... Vabbè, appositi... per chi vuole fare del coaching online o comunque avere le mie consulenze a pagamento. Però Marco non c'è problema, se ogni tanto ti fai sentire, va benissimo. Ok, no problem. Lo dico per il più perché se tutti mi scrivono diventa un macello per ovvi motivi di tempo. Comunque Marco, grazie del pensiero, molto gentile ed eccomi qua. Il motivo per cui non c'ero è perché anch'io ho una vita, anch'io ho alti e bassi, periodo estremamente di merda, ormai da mesi per me, per tutte le mie situazioni di coniugazione femminile, diciamo così. Lo dico sorridendo perché piano piano me ne sto facendo una ragione. e quindi questo è il motivo. Detto ciò, allora, ringraziato Marco, ringrazio Marco di Salò, se non sbaglio, dico bene, Limone, Del Garda, Desenzano, Oliva Del Garda, quelle parti. Boh, ringraziato Marco, veniamo ad un argomento odierno, diciamo così. Perché mi sono sentito anche privatamente con Marco Pt e, come posso dire, elogio il suo ultimo video che ha fatto, dove tratta del grande, grandissimo, unico, incommensurabile, ancora sto pensando ad appositivamente, no, cazzo non mi viene, apposito, ci devo stare a pensare, vabbè. Incommensurabile, incredibile, mascherone, The Master Wallace, dove effettivamente Marco, parlando come ha parlato, mi ha dato ragione sul fatto che io ho tempo addietro. Gli dicevo, guarda che quello non è tanto un personaggio, ma lo è proprio così. Cioè, voglio dire, non è che lo dico perché voglia parire, ah, hai visto, sono quello che ha ragione. No, è un'ulteriore conferma sul mascherone che lui è così. Poi, perché elogio Marco Pt? Non tanto per il fatto che abbia, infatti l'ha detto, non è neanche un video dissing il mio, lui l'ha detto perché non è contro Master Wallace. Lui ha espresso delle opinioni e Marco gli ha risposto, diciamo così. Se sei sul tubo è normale, anche se non è diretto a te che uno ti risponda. Ma vorrei anche vedere, soprattutto se uno, come posso dire, del settore. Elogio il fatto che, come sempre, si è comportato da gran signore, video sobrio, capace di esprimere pienamente il suo pensiero, senza, certo, è, come posso dire, crudo nell'esporre i fatti, perché ha ragione, giustamente, quando uno si pone con il solito modo di fare del mascherone, è normale che un po' di, come possiamo chiamarla, recrudescenza, ma non lo so se è giusto. Comunque ci sta, perché dà fastidio uno che si atteggia. Ma quello non serve un cazzo, Michael Erne è un cretino, questo esercizio non l'ho fatto. Poi andiamo a vedere lui, nei fatti, cosa fa, cosa combina. È mai salito su un palco, anche a livello della saga delle ciliegie, della porca miseria, del frate Indovino, come ho fatto io, ad esempio. Però ci sono, oddio, è la verità, io sono salito anche su un palco di FBB, allora era FIAF, ma era l'equivalente di FBB a livello provinciale. Non è che mi metto io in contraposizione con lui, dico solamente che parli, parli, poi vai a stringere, c'è cazzo è fatto, no? Anzi, no, c'è cazzo è fatto, dicono in Puglia, o Pugliese, o Pugliese. No, ecco, quindi, voglio dire, nella sostanza dei fatti bisogna anche un po' andare, no, a vedere cosa hai da portare al tavolo. E uno quando parla con tutta quella, no, saccenza, con tutta quella boria, con tutta quella indisponenza, se vogliamo, e anche supponenza, e aspettati che gli altri ti rispondano a dovere. Caro il mio mascherone. Detto questo non è che bisogna offenderlo o bisogna odiarlo, per carità. Non è giusto, non è corretto. E elogio Marco Pitti, proprio per come ha fatto il video, capace di essere duro, senza essere oltremodo offensivo. Di creare un dissing, non dissing, con la capacità che lo contraddistingue, e cioè dell'educazione. Chi a me questa cosa piace? Attenzione, io a volte travalico le righe e divento anche maleducato, forse è proprio per questo che Marco Pitti mi piace in questi suoi atteggiamenti. Detto questo, passiamo alla parte tecnica. Allora, sarà un video cortissimo, come sempre. Passiamo alla parte tecnica. Allora, esercizio per i bicipiti. Attenzione, questi esercizi, non dico che li ho inventati io, è una cosa che ho pensato io, poi sicuramente l'avrà pensata qualcuno prima di me. Io questa postilla la metto sempre. E non sono cose inventate lì per lì, alla Casso de Can, di Sena Milano. Alla Casso de Can, di Sena Milano. Te capite? Ecco. No! C'è dietro un minimo di studio. E queste cose di solito sui libri non le trovi, nel senso che sono esercizi che su alcuni va de me, comunque libri per appunto puoi trovare. Però, diciamo che nella media, su quelle letture standardizzate, anche se di settore specifico, di solito queste cose non si trovano. Mettiamola così. Esercizio per i bicipiti. Allora, quando ci mettiamo, è un esempio per far capire, qual è il target specifico dell'esercizio, dove va a colpire il muscolo target, in poche parole. Quando ci mettiamo in double back biceps, cioè doppi bicipiti posteriori di schiena, è importante che la parte esterna, questa parte qua del bicipite, ci capiamo, questa parte qua del bicipite, sapete che il bicipite si divide in due parti, bicipite e bicipite brachiale. Questa è la denominazione dei due capi del bicipite. Ok? Con le varie inserzioni, le varie terminazioni, ma lasciamo perdere la biomeccanica, l'anatomia che annoia, non voglio fare professorino, la sanperta. Diciamo che ci sono i due punti del bicipite da andare a sollecitare esternamente per far sì che si possa vedere il bicipite. ricordiamoci che qua facciamo culturismo, body, bidi, body, boo. Il bidi, body, bidi, body, boo. Chi se la ricorda sta pubblicità? C'entra un cazzo, ritorniamo indietro dalla digressione e torniamo sull'argomento. Quindi, per sollecitare quella parte lì esterna del bicipite, ci sono, c'è un esercizio, ce ne sono tanti, ma c'è un esercizio particolare che come i drag carl che alcuni ho fatto scoprire, anche gente di una certa età che non li conosceva, io li ho, come posso dire, uno, un famoso fautore dei drag carl era Rich Gaspari o Gaspari, lo ricordate, anni Ottanta, l'eterno secondo dietro gli anni e lui era uno, un sostenitore di questo esercizio del drag carl. Come torniamo a noi? Questo non ha un termine, almeno che io sappia, poi anche io nei limiti, americanizzato o inglesizzato del termine stesso e quindi lo chiameremo carl per bicipite, bicipiti con manubri, posizione hammer interna. Aio! Bisognerebbe trovare un accorciamento come i drag carl, in modo che c'è drag carl, non è bicipiti con alzata e portata posteriore del gomito in sollevamento, in carce, o con manubri, insomma, quel che era. Drag carl, ecco. Troviamo un nome per questo esercizio, hammer carl, no, perché gli hammer carl sono classici con i gomiti piantati sui fianchi, qual discorso è un po' diverso, tant'è vero che i gomiti saranno un po' più avanzati con fronte al busto. È un esercizio dove va curata molto la tecnica, esercizio di isolamento muscolare, perché va a porzionare il muscolo nel dettaglio. È un esercizio da fare non magari sempre, ma in alcuni periodi dell'anno ci sta molto bene, neanche come sostitutivo dei classici carl con rotazione del polso, con bicipiti o di altri esercizi dove ci sono i manubri in uso. Ecco. Farlo tutto l'anno si può, va benissimo. Quando si può fare questo esercizio, quando è consigliato di farlo in continuazione quasi tutto l'anno è quando si ha una parte della porzione muscolare esterna del bicipite estremamente carente. In quel caso se uno dice cazzo la parte dietro del mio bicipite o anche quando contrago frontalmente che faccio questo lavoro in mass muscola scusate è stata una cagata comunque quando mi metto in mass muscola e voglio far vedere la parte esterna del bicipite del bicipite brachiale non si vede mi lavora molto bene la parte interna questa qua ma la parte esterna non si vede in modo come posso dire ineccepibile quindi ho bisogno di lavorare e allora quello è un esercizio che può venire utile farlo abbastanza in continuazione ok? Ora per farvi capire nel dettaglio useremo il gran bel fisico permettetemi passate il termine di gran bel fisico di mio figlio Cristian andiamo in palestrina a vedere un attimino come si fa e così avrete un'idea dell'esercizio stesso andiamo a vedere ciao Cristian ciao ragazzi allora dobbiamo fare Carl per bicipiti con manubri in posizione hammer interna quindi avremo l'atteggiamento posturale per questo esercizio è molto importante Cristian girati un po' di qua che ho il sacco ecco così quindi cula papera vedete lordosi accentuata gomiti leggermente avanti confronto al busto ginocchio leggermente piegate e lentamente andiamo a fare il Carl forza ok vedete che il gomito è leggermente avanti e andiamo a chiudere ok come potete vedere un esercizio particolare ma lavora moltissimo il bicipite brachiale e il bicipite ma la parte esterna tanto per capirci in back in back double bicep che inglese di merda back double bicep si vedrà questa parte qua del bicipite più lavorata più accentuata con questo tipo di esercizio vai un po' più veloce vediamolo dal centro ok Carl per bicipiti con manubri in posizione hammer interna vedete è una traiettoria obliqua verso comunque l'interno non è un esercizio a cazzo funziona sentirete lavorare la parte come poc'anzi ho detto la parte esterna dei bicipiti you know you know you know ora abbiamo visto il come eseguire l'esercizio ringraziando il nostro Christian spero che vi sia utile attenzione iscrivetevi a stu cazzo di canale schiacciate stu cazzo di campanellina dai che voglio salire un po' con gli iscriviti se no qua chiudo baracca burattina rivederci a tutti dai no vabbè sto scherzando forse iscrivetevi mettete schisciate la campanellina mi raccomando e e niente alla prossima ragazzi you know